Musica Primaria del centro-sinistra a Follonica, perché i cittadini follonichesi dovrebbero votare lei alle primare di domenica 9 marzo? Innanzitutto perché noi crediamo che questa città abbia bisogno di essere sviluppata, soprattutto dal punto di vista del lavoro ed economico. Negli ultimi anni ci sono stati molti blocchi all'economia di questa città, spesso sono stati anche degli errori fatti durante i percorsi amministrativi. Noi riteniamo che in questo momento si debbano togliere gli ostacoli che hanno bloccato questo sviluppo e aprire la città veramente alla crescita e ai posti di lavoro. Due sono sostanzialmente i settori di sviluppo su cui noi puntiamo tantissimo. Uno è il settore turistico, quindi il settore alberghiero. Bisogna dare la possibilità di costruire i nuovi alberghi, quelli che ci sono e sono previsti, e anche di dare la possibilità alle strutture esistenti di potersi ampliare. In più crediamo che non sia solo il turismo un aspetto da sviluppare, economico, ma anche il settore dell'hightech e delle nuove tecnologie. Quindi io credo che la parola d'ordine, l'hashtag, come si dice in linguaggio moderno, sia sviluppo e lavoro per Follonia.